Con i libri si cena, con i libri si mangia, si pranza, con i libri si può mangiare di tutto. Come? Come? Non ci credete? C'è una storia bellissima che è prosciutto e uova verdi, che un giorno leggeremo, ma non avete mai assaggiato le uova verdi? E allora avete mai assaggiato le lumache? Chi? Qualcuno le assaggiate e qualcuno no? No, mica tutti piacciono però... Che schifo le lumache! Papà, 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 ho fame, ho fame, ho fame! Eccomi, eccomi, arrivo! Il signorino è servito! Oh, attenzione, che è calda, è! È calda! Papà, ma che roba è questa? Beh, è una ricetta raffinatissima, una torta di fate, tutta per te! Che strano! A me sembrano delle lumache! Lumache, lumache! Oh, questa è buona! Credi che abbia nascosto delle lumache dentro la torta per obbligarti a mangiarle? Parle! Boh, che fantasia! Non farei mai una cosa del genere! Tu mi conosci bene, vero? Ma... ma a me fan schifo le lumache! E poi anche il purè di unicorno che mi hai fatto ieri sera sapeva di lombrico! Ma... ma che dici? Ma che dici? Ma le lumache, le lumache sono deliziosi, croccanti, polpose e piene di proteine! Però... però le fate, le fate, le fate sono ancora più buone! Ieri mi sono fatti in quattro per trovarle, al mercato le avevano finite, allora mi sono avventurato nella foresta per cercarne un po' insieme a qualche farfalla per il filetto di questa sera! Su, 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 mangia, 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 mangia! Mangia, se no si raffredda! Papà! Ma perché alle fate mancano le ali? Ma perché? Perché? Ma 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 perché gliel'ho tolto e tu guarda lo dice anche la ricetta! Togliere accuratamente le ali alle farfalle, alle fate, prima di cuocerle! Le ali sono dure e hanno un sapore amaro! Papà! Ma è vero che noi siamo dei draghi? Ma... ma naturalmente! Ma che domande mi fai? Mio padre era un drago e anche suo padre, quindi io e te cos'altro potremmo essere? Dei rospi forse? Sono proprio un mattacchione! Papà! Ma allora se tu sei un drago, allora tu sai volare? Beh, beh, ma certo che so volare! Però ora finisci la torta, eh? Finisci! Ma se io la finisco, tu mi fai vedere come fai? Beh, beh, se vuoi! Per ora mangia, eh? Mangia! Promesso, eh? Hai promesso? Vabbè, promesso! Per ora mangia, mangia su, eh? Mangia! Finita! Papà! Hai promesso? Beh, direi che non ho scelta! Ullala! È alto però! Dai, 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 papà! Figliolo! Guarda bene! Non lo farò due volte! Dai, 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 dai! Vai, papà! Ma... guarda, eh! Guarda! Sì, sì! Vai, 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 papà! Attenzione! Tre! Due! Uno! Sì! Papà! Allora, hai visto? È facile! Oh! Papà! Ma tu stai volendo! Beh, nulla di che! È un gioco da ragazzi! Tu non muove!